Qualche settimana fa, mentre facevamo i lavori di giardinaggio, abbiamo trovato delle frecce in giardino e pensavamo che fossero dei bambini che abitano nelle case qui vicino. Abbiamo chiesto ai vicini e anche loro hanno trovato le stesse identiche frecce. Otto frecce lunghe una trentina di centimetri, questa che ci mostra Chiara non ha la punta, ma le altre che sono state rinvenute nei giardini e nell'abitazione ce l'avevano. Nel quartiere Guizza, a Padova, qualche settimana fa ci sono stati questi misteriosi ritrovamenti. Non solo nei giardini, in un caso una freccia si è conficcata nella fioriera di un terrazzo e i piani più alti. I residenti di Via Bruni non nascondono la loro preoccupazione. Preoccupati abbiamo chiamato i vigili, li abbiamo fatti vedere ed è emerso che sono delle frecce che possono essere tirate da una distanza di circa 30 metri. Le misteriose frecce del quartiere Guizza sono comparse pochi giorni dopo i fatti di Genova, dove un ragazzo che stava festeggiando la nascita del figlio in un bar è rimasto ucciso da una freccia scoccata da una finestra di un'abitazione da un uomo stanco dei rumori provenienti dai locali sotto le sue finestre. Da qui la decisione di alcuni cittadini di fare denuncia nella speranza di individuare il pericoloso arciere. Abbiamo effettuato un esposto al comando della Polizia Municipale qui nel quartiere e adesso loro stanno facendo delle indagini e hanno già provveduto anche a contattare i vicini che stanno qui intorno per comprendere chi magari possiede un arco di questo genere.